Un saluto da Luca e Flavio dall'Informa Giovani. In questa puntata vi presenteremo le iniziative di giugno e luglio qui all'Informa Giovani. Cominciamo con Ti mandiamo a quel paese gratis. Continua all'Informa Giovani lo sportello di consulenza dedicato al servizio volontario europeo. Tutte le informazioni per chi vuole fare un periodo di volontariato e di crescita personale in un altro paese europeo o extraeuropeo. Sei un giovane straniero tra i 14 e i 35 anni? Vuoi verificare quanto conosci la lingua italiana? Martedì 19 giugno, dalle ore 14 e 30 alle 17 e 30, potrai fare all'Informa Giovani un test gratuito di valutazione delle tue competenze linguistiche in italiano. Job point, primo impiego. Sei un giovane in cerca della prima occupazione? Martedì 26 giugno, dalle 14 alle 18, si terrà all'Informa Giovani un incontro gratuito per orientarsi sul mondo del lavoro. I temi trattati saranno il mondo del lavoro e gli strumenti per la ricerca attiva di un impiego, indicazioni per la compilazione di un curriculum vitae, preparazione di un colloquio di lavoro con relative esercitazioni, confronto su modalità ed esperienze personali di ricerca del lavoro. Lavorare, studiare e fare volontariato all'estero sono sicuramente esperienze entusiasmanti e altamente formative. All'Informa Giovani troverai delle sezioni dedicate alle opportunità di studio, di lavoro, di volontariato all'estero attraverso dossier e pubblicazioni specializzate. Attenzione, inoltre vi segnaliamo un nuovo bando di assegnazione spazi. Il bando comprende spazi sfitti e inutilizzati di proprietà comunale che saranno destinati ad affittanze commerciali o a enti senza scopo di lucro. In particolare, 8 unità, per un totale di circa 700 metri quadri, diventeranno sedi di associazioni a canone ridotto del 70%. The Not Think, proiezioni, conferenze, workshop e skate jam dedicati allo skateboarding. Si tratta di un'esposizione artistica pluridisciplinare con opere d'arte legate al mondo dello skateboarding, create da diversi artisti internazionali. Exputin è un'iniziativa promossa dall'Associazione Vivaio ed è rivolta ai giovani creativi di età compresa tra i 16 e i 25 anni. L'obiettivo è quello di creare un gruppo di lavoro capace di proporre un originale progetto per valorizzare la città di Milano, rendendola protagonista in vista dell'Expo 2015. Per prendere parte al progetto basterà presentarsi giovedì 21 giugno, dalle ore 16 alle 21 in via Arena 7, specificando il proprio campo. Il progetto è aperto a tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in gioco e di pensare un'idea creativa da proporre per migliorare la città. Ideas on the Move, concorso per idee imprenditoriali innovative, giovani che aiutano i loro coetanei a inventarsi un lavoro e a incidere sulle politiche europee a loro destinate. Il bando è riservato ai giovani cittadini europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Rappresenta questa la prima tappa del progetto Ideas on the Move, ideato dall'Associazione Italiana Giovani Senza Frontiere, in collaborazione con la Seconda Università di Napoli e finanziata con i fondi europei nell'ambito del programma comunitario Europa per cittadini. Quindi, per un'estate diversa, troverete molte opportunità estive legate alla mobilità internazionale, consultando il sito dell'Associazione Joint nella sezione Scambi Europei Disponibili. Bene, allora per il momento è tutto. Dall'informazione di Milano con Flavio e Luca, non lasciatevi spuggire queste opportunità. Rapp Toni, non lasciatevi spuggire queste opportunità,